Dallo scorso aprile la chirurgia robotica mini-invasiva è approdata all'Arci Spedale Sant'Anna dell'azienda ospedaliera universitaria di Ferrara. Ad aprire la strada all'innovazione l'arrivo direttamente da Parigi del professor Nicola De Angelis che da direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia robotica e mini-invasiva ha avviato un programma proprio all'ospedale di Cona. Questa tecnologia è utilizzata anche per curare patologie benigne ma complesse soprattutto per operare pazienti oncologici. Abbiamo iniziato a lavorare ancora prima ad arrivare con una grande disponibilità da una parte dei colleghi anestesisti che si sono confrontati con le nostre equip per esempio in Francia o in Italia che facevano già attività robotica per dare al paziente il giusto anche compromesso anestesiologico e poi un grande lavoro anche con gli infermieri del blocco operatorio che hanno conosciuto questa nuova tecnologia che si sono adattati molto velocemente e con grande entusiasmo. Quindi questo è stato fondamentale per poter iniziare un programma di chirurgia robotica che nei primi tre mesi in chirurgia generale ha visto già più di 50 interventi eseguiti anche interventi che in genere richiedono più anni per l'equipe chirurgica impiegata. Noi non avevamo l'effetto learning curve quindi abbiamo potuto iniziare subito a sfruttare al massimo la tecnologia robotica. Post operatorio meno doloroso, degenze più corte e riabilitazione più veloce per i pazienti sono tra i vantaggi principali della scelta di impiegare le innovazioni tecnologiche in ambito chirurgico. Sicuramente tutto quello che è tecnologia e che qualità servizio del paziente costa di più perché impiega più materiali, impiega più tecnologia però c'è anche una parte molto importante che sviluppa anche non solo chirurgicamente ma a livello medico un innalzamento degli standard di qualità di tutto il processo che porta il paziente in sala operatoria quindi del team per esempio anestesiologico ma anche del modo in cui approcciamo il paziente per portarlo in sala operatoria con protocolli avanzati tipo la preabilitazione nelle prime due tre settimane preoperatorie e poi protocolli ERAS quindi di recupero più veloce del post operatorio che sono tutte cose che vanno a complementarsi con la tecnologia che diamo al blocco operatorio quello che è essenziale è saper usare queste metodiche costose nel migliore dei modi e quindi imbricandole dentro al meglio che possiamo fare a livello medico di percorso terapeutico grazie a tutti grazie a tutti